Ciao a tutti, oggi parleremo delle vocali e dei dittonghi, quindi un argomento molto importante in greco. Le vocali in greco si chiamano fonenta, che vorrebbe dire risonanti, che suonano. Questo perché la caratteristica delle vocali, che poi è anche una caratteristica che le vocali possiedono in italiano, è quella di essere pronunciate senza l'ausilio di altri suoni, a differenza delle consonanti, che come dice proprio anche il nome in italiano, consonanti, sono dei suoni che per essere pronunciati si devono appoggiare ad un altro suono, quindi una vocale. Le vocali da sole, appunto, potendo essere pronunciate da sole, possono anche costituire una sillaba a sé. Per esempio, pensate alla parola italiana, non so, abitare. Se noi la dividiamo in sillabe, abbiamo a-bi-ta-re. Vedete che in tutte le sillabe, è una parola quadrisillaba, costituita da quattro sillabe, in tutte le sillabe c'è almeno una vocale. Nella prima sillaba, però, abbiamo soltanto a, quindi non c'è nessuna consonante. Quindi, mentre possiamo avere in italiano, e così anche in greco, sillabe costituite semplicemente da vocali, da una o più vocali, nel caso si formi un dittongo, non avremo mai delle sillabe costituite solo ed esclusivamente da una consonante. Quindi, adesso andiamo a vedere quelle che sono le vocali in greco e le modalità con cui queste vengono classificate. E le classificazioni delle vocali sono molto importanti, proprio perché poi ritorneranno fuori in tantissimi altri argomenti che vedremo più avanti. Allora, le vocali in greco sono sette, quindi abbiamo sette grafemi per indicare cinque fonemi. Un po' l'abbiamo già detto, quindi i fonemi E, E, O e O, quindi ho chiuso e ho aperto, e chiuso e aperto, vengono indicati con due grafemi distinti. Infatti, in greco, le vocali sono sette, sono alfa, epsilon, eta, iota, omicron, y e omega. Ecco le sette vocali in greco. Come vi dicevo prima, le vocali possono essere classificate in vari modi. Uno di questi è in base alla quantità. La quantità di una vocale indica praticamente la durata, oppure il tempo, della sua pronuncia. In base alla quantità, le vocali possono essere fondamentalmente di due tipi. Possiamo avere vocali brevi e vocali lunghe. Le vocali lunghe vengono pronunciate in un tempo doppio rispetto alle vocali brevi. Ovviamente, noi quando leggiamo una parola in greco, non teniamo assolutamente conto della quantità, proprio perché in italiano si è persa completamente il concetto della quantità. Un concetto che invece è ancora presente nel latino, per esempio, ma non solo, anche in alcune lingue moderne. Pensate all'inglese, per esempio, se io dico I meet, cioè io incontro, il presente, vedete, meet, al suono lungo della E. Se invece io dico I meet, io incontrai, vedete che la E ha il suono breve, perché lo pronuncio in un tempo molto inferiore. I meet, I met. È un po' quello che succede anche in latino. In latino, se scrivete venit, con la E breve, dopo vi spiego questo simbolino che ho messo su, indico il presente. Se dico invece venit, con la E lunga, indico il perfetto, quindi il passato. Tornando al greco, le vocali, abbiamo visto in greco, possono essere brevi, e sono epsilon e omicron. Queste sono sempre brevi, in ogni caso. Le vocali che invece sono sempre lunghe, sono le corrispondenti forme aperte, diciamo così, cioè eta e omega. Accanto a queste, abbiamo anche le cosiddette vocali ancipiti, che sono delle vocali che possono essere, in alcuni casi, brevi, in altri casi lunghe. E in questo caso abbiamo alfa, iota e y. Quindi, vocali sempre brevi, epsilon e omicron, vocali sempre lunghe, eta e omega, vocali ancipiti, che quindi possono essere, in alcuni casi, brevi, in altre lunghe, sono alfa, iota e y. quando alfa, iota e y sono brevi, si utilizza un segno, diciamo così, filologico, che non troverete nei testi correnti, diciamo, ma semplicemente un segno filologico grammatico, si pone al di sopra questo simbolo, quando vogliamo sottolineare che le vocali sono brevi. Se invece vogliamo indicare che le vocali sono lunghe, si utilizza quest'altro simbolo, cioè questa barretta. A volte, sapere la quantità di una vocale può essere molto importante, soprattutto ai fini della flessione, quindi sia della coniugazione verbale, che anche della declinazione. Un'altra classificazione che possiamo fare è in base alla qualità. La qualità di una vocale, diciamo che indica l'intensità o la stabilità del suo suono, cioè del suono con cui viene pronunciata. E in base alla qualità, noi possiamo distinguere in vocali forti, dette anche aspre, e vocali dolci, deboli, diciamo, o dolci. Questa classificazione, come vedremo, è molto importante quando parleremo dei dittonghi. Le vocali forti o aspre in greco sono alfa, epsilon, eta, omicron e omega. Mentre le vocali deboli, o vocali dolci, sono iota e y. Quindi, in base alla loro qualità, cioè all'intensità del suono, le vocali greche si distinguono in queste tipologie. Forti o aspri, oppure deboli o dolci. Vedremo che l'incontro di una vocale forte e di una vocale debole darà origine, generalmente, a un dittongo. un'altra classificazione che invece si può fare è quella in base al timbro. In pratica, in base al timbro, noi distinguiamo le vocali in base al colore del suono che deriva praticamente dalla forma che assume la cavità orale quando noi pronunciamo quella vocale. e in base al timbro noi distinguiamo tre tipi di vocali. Abbiamo le vocali cosiddette scure, le vocali medie, che poi in greco in realtà è solo una, quindi scriverò media, e le vocali chiare. Le vocali chiare che invece sono altre tre. Quindi abbiamo le scure che sono rappresentate da omicron, omega e y. Quindi il suono O-U dove la bocca rimane più chiusa. poi abbiamo la vocale media che è alfa, quindi che è un timbro medio, e le vocali chiare che invece sono rappresentate dai suoni E-E-I. Quindi E-Epsilon, Eta e Iota. Quindi questa è un'altra classificazione delle vocali che ci tornerà utile per esempio quando vedremo il fenomeno della contrazione. L'ultima classificazione che può essere fatta è quella in base al grado di apertura della bocca. Quindi grado di apertura della bocca quanto noi apriamo la bocca pronunciando una vocale. Per ricordarsi questa classificazione, chiamiamola così, esiste un grafico che si chiama triangolo delle vocali che adesso provo a disegnare, verrà fuori una roba abbastanza imbarazzante, ma ci proviamo. ecco, si scrive un triangolo, si fa abbastanza schifo ma va bene, si fa un triangolo col vertice verso il basso e in alto stanno le vocali cosiddette chiuse, quindi quelle che hanno il suono più chiuso stanno qui in alto e qui abbiamo le vocali chiuse. Al vertice abbiamo invece le vocali aperte, che anche qui ce n'è solo una quindi scriviamo aperta. Al centro stanno le cosiddette vocali di apertura media. Ecco, via via che si scende nel triangolo passando dalla base al vertice la bocca da chiusa via via si va sempre più aprendo. In greco la vocale più aperta è la vocale alfa. che quindi in genere si scrive qui. Helwag era un medico tedesco che appunto progettò questo sistema di classificazione delle vocali che si applica anche ad altre lingue non solo al greco. Comunque, come vi dicevo alfa è la vocale più aperta e si scrive vicino al vertice. Subito sopra ad alfa abbiamo eta e epsilon ovviamente il suono e epsilon è più lontano da alfa perché è un suono più chiuso come abbiamo visto e infine il suono più chiuso in assoluto è il suono iota per la serie diciamo così di timbro chiaro. Per la serie di timbro scuro abbiamo y è il suono più chiuso poi abbiamo omicron omega che si scrive un po' più vicino ad alfa perché ha il suono un po' più aperto e quindi alfa. Il triangolo si spiega perché se voi provate a pronunciare questi suoni partendo dalla base andando verso il vertice vedrete che la bocca si apre progressivamente proviamo un po' vedete i e e a vedete che la bocca va aprendosi sempre di più stessa cosa da questa parte u o o a quindi anche qui partiamo da una diciamo bocca più chiusa e via via che scendiamo verso il vertice l'apertura della bocca aumenta. Bene vi prego di ricordare attentamente la classificazione delle vocali perché ci tornerà molto utile anche per gli argomenti successivi come vi dicevo. E adesso andiamo a vedere i dittonghi dittonghi che sono molto importanti in greco il dittongo rappresenta anche in italiano questo l'incontro di due vocali che formano un'unica sillaba quindi che vengono pronunciate con un'unica emissione di voce in greco dittongo si dice diphthongos sulla be scritto così diphthongos vedete che qui abbiamo il doppio gamma vi ricordate la regolina di pronuncia che quando gamma è seguito da un altro gamma assume il suono nasale velare infatti io ho letto diphthongos sulla be cioè sillaba doppia dal doppio suono vorrebbe dire sulla be proprio perché sono due suoni cioè due vocali distinte che però formano un'unica sillaba che quindi è come se venisse pronunciata con un doppio suono in greco come vi dicevo un po' prima quando è che si ha dittongo quando una vocale forte è seguita da una vocale debole allora ricordiamo che le vocali forti come abbiamo detto prima sono alfa epsilon eta omicron e omega quindi quando una di queste vocali è seguita da una vocale debole cioè iota oppure y allora abbiamo dittongo in greco poi generalmente perché come vedremo non sempre questo avviene se avviene il contrario cioè se avviene l'incontro di una debole più una forte non si avrà dittongo ma si ha un oiato come in italiano quando due vocali non formano dittongo si dice che formano uno iato iato deriva dal latino vorrebbe dire apertura iatus cioè apertura perché quando pronunciamo uno iato la bocca tende ad aprirsi e quindi quando vi dicevo una vocale debole precede una vocale forte oppure anche quando si incontrano due vocali forti tra di loro si ha in greco uno iato facciamo qualche esempio prendiamo per esempio non so la parola diairesis separazione che mi sembra abbastanza utile perché c'è una particolarità particolarità poi per modo di dire ma allora diairesis vedete qui abbiamo un dittongo che è rappresentato da alfa che è una vocale forte seguita da iota che è una vocale debole come abbiamo già visto vedete l'accento si pone nei dittonghi sul secondo elemento ma si fa sentire sul primo infatti ho letto diairesis non ho letto diairesis ho letto diairesis ma vi prego di notare anche questo incontro iota alfa che vedete non forma un dittongo infatti se io dividessi in sillabe questa parola avrei di ai che quindi formano un'unica sillaba resis vedete debole più forte formano uno iato quindi ognuna appartiene a una sillaba differente forte invece più più debole formano un dittongo un esempio di iato potrebbe essere per esempio iatros medico in iatros vedete iota e alfa non formano dittongo questo uno iato perché la debole precede la forte infatti se dividessi in sillabe avrei i a tros quindi vedete iota e alfa due sillabe separate facciamo un altro esempio di iato per esempio quando si incontrano due vocali forti per esempio nella parola idea che vuol dire proprio idea anche in questo caso abbiamo due vocali forti che si incontrano vedete e quindi abbiamo un oiato quindi qui avremo i de a come suddivisione delle sillabe quindi ognuna forma una sillaba a sé quindi come vedremo il greco poi utilizza vari espedienti per eliminare l'oiato quando è possibile proprio perché come vedremo in greco si tende al concetto dell'eufonia cioè del dolce del bel suono chiamiamolo così del buon suono quindi laddove c'è un oiato che rappresenta un'apertura della bocca quindi un suono considerato sgradevole il greco cerca di eliminarlo e vedremo lo farà in vari modi uno di questi è appunto la contrazione che sarà il primo fenomeno vocalico che prenderemo in considerazione cosa succede invece quando si incontrano le due deboli abbiamo visto quando si incontrano le due forti si forma un oiato e quando si incontrano invece le due deboli ci può essere un dittongo un po' particolare cioè oltre ai dittonghi costituiti da una vocale forte più una vocale debole esiste anche un dittongo un po' particolare che è costituito da y più iota più vocale quindi quando y è seguito da iota che a sua volta è seguita da una vocale si ha un dittongo l'esempio classico che si fa in questo caso è muia mosca vedete qui abbiamo y iota seguito da vocale quindi y e iota formano un dittongo infatti io vedete l'accento l'ho scritto sul secondo elemento ma leggo come se cadesse nel primo quindi muia notate anche che cosa che vi dissi qualche video fa quando y forma dittongo perde il suono della u francese e viene a assumere quello della u italiana questa cosa non avviene nel caso del dittongo y più iota perché perché in questo caso y conserva il suono della u francese infatti ho letto muia facciamo un altro esempio prendiamo per esempio il perfetto indicativo del verbo luo che vedremo ampiamente il perfetto di luo è le lu cuia che si scrive le l'u cuia vedete anche in questo caso abbiamo il dittongo y iota seguito da vocale che quindi forma un dittongo detto ciò andiamo a vedere adesso la classificazione dei dittonghi perché anche per i dittonghi abbiamo una classificazione che è una classificazione molto importante i dittonghi possono essere classificati in dittonghi propri che sono quelli in cui la vocale forte è una vocale breve poi abbiamo i dittonghi impropri che sono quelli in cui la vocale forte è una vocale lunga quindi propri vocale forte breve impropri vocale forte lunga e poi abbiamo i cosiddetti dittonghi spuri o falsi dittonghi questi poi li vediamo molte grammatiche non li classificano tra i dittonghi perché in effetti non sono dittonghi infatti si chiamano falsi dittonghi o dittonghi spuri però poiché si considerano alla stregua di dittonghi sia per quel che riguarda la pronuncia sia per quel che riguarda le regole di accenti e spiriti io li classifico insieme con i dittonghi anche se tenete ben presente non si tratta di veri e propri dittonghi quindi adesso andiamo a vedere quali sono i casi di dittonghi propri in greco facciamo proprio tutti i casi allora abbiamo detto che un dittongo proprio si ha quando una vocale forte la vocale forte è breve quindi cominciamo da alfa alfa può essere abbiamo visto ancipite quindi può essere sia lunga che breve in questo caso ci interessa quando alfa è breve quindi avremo il caso di alfa breve seguito da iota e quindi avremo il dittongo alfa breve iota oppure di alfa breve quando è seguito da y e avremo il dittongo alfa y che si legge au molto semplicemente poi abbiamo epsilon epsilon è sempre breve quindi anche in questo caso avremo il dittongo epsilon iota e il dittongo epsilon y che si legge e u molto semplicemente eta non è breve è sempre lunga e quindi darà sempre dei dittongo non darà mai dei dittonghi propri e omicron invece è sempre breve quindi darà sempre dei dittonghi propri e abbiamo il dittongo omicron iota e il dittongo omicron y che vi ricordo si legge u quindi in greco classico in attico abbiamo questi sei dittonghi propri alfa iota alfa y epsilon iota epsilon y omicron iota omicron y quando invece la vocale forte è lunga darà origine a dei dittonghi impropri quindi avremo il caso di alfa lungo che darà origine al dittongo improprio alfa lungo iota al dittongo improprio alfa lungo y poi avremo il dittongo improprio eta y e quello eta scusate eta iota e quello eta y e poi avremo il dittongo improprio omega iota e il dittongo improprio omega y allora quindi anche qui abbiamo sei casi in realtà cominciamo col dire che il dittongo alfa lungo y in attico è rarissimo non si trova quasi mai quello omega y è addirittura inesistente lo troviamo per esempio nel dialetto ionico ma non lo troviamo più non lo troviamo nel dialetto attico negli altri casi noi abbiamo alfa lungo iota eta iota eta y e omega y ora c'è da dire che in attico soprattutto in una fase più tarda della lingua i dittongo improprio o tendevano a diventare propri o tendevano proprio a scomparire tant'è che a un certo punto si smise questo avvenne soprattutto in epoca piuttosto tarda in epoca bizantina diciamo così lo iota non si pronunciava più e quindi e questa diciamo questa caratteristica il fatto che quando iota è il secondo elemento dei dittongo impropri non venga più pronunciato è stato anche adottato nella pronuncia del greco scolastico quindi nella pronuncia scolastica del greco classico per indicare che lo iota non si pronuncia più nei dittongo impropri si scrive sottoscritto cioè lo si scrive piccolino sotto la vocale lunga quindi il dittongo improprio alfa lungo iota lo scriveremo così stessa cosa per il dittongo eta iota vedete lo iota si scrive piccolo sotto eta eta ipsilon rimane così lo riscriviamo e anche nel caso di omega iota lo iota si sottoscrive questo perché come vi dicevo a un certo punto lo iota non si pronunciava più e quindi anche nella scrittura lo si scriveva al di sotto della vocale forte lo iota diciamo che venne pronunciato almeno fino al secondo secolo avanti cristo poi da da quel periodo più o meno in poi si andò sempre più affievolendo la sua pronuncia e appunto nella grafia cominciò a rimpicciolirsi quindi lo si scriveva appunto sotto scritto senza più essere pronunciato anche se vadate bene i greci nel diciamo nel periodo classico iota veniva pronunciato ma lì non c'erano le lettere minuscole non venivano utilizzate quindi non c'era il caso di iota sottoscritto perché perché se la lettera è scritta maiuscola iota non si sottoscrive ma si ascrive cioè si scrive di fianco e dopo vedremo qualche esempio in questo caso abbiamo iota ascritto e anche in questo caso cioè anche nel caso di iota ascritto iota non si legge non si pronuncia mai il fatto che iota all'inizio fosse pronunciato e poi lo si smise di pronunciare è testimoniato da alcune parole latine traslitterate derivate direttamente dal greco per esempio come si dice in latino tragedia tragedia in latino si scrive così tra go e dia si legge tragedia ma si scrive tra go e dia questo deriva dal greco è stata praticamente traslitterata alla lettera tra tra go qui omega a iota sottoscritto tra godia vedete cioè praticamente lo iota è stato traslitterato nella e questo perché quando la parola tra godia passò in latino la si leggeva ancora tra go iota si faceva sentire quindi in un'epoca in cui iota si faceva ancora sentire e quindi il latino lo ha traslitterato in tragedia quindi con la e traccia dello iota se invece prendiamo la parola melodia in latino io ve lo scrivo in latino che poi è uguale all'italiano in questo caso melodia si scrive melodia semplicemente in greco però è me lo anche qui abbiamo omega e iota sottoscritto dia ora voi direte perché qui lo iota sottoscritto è stato traslitterato con la e e qui invece non è tipo me lo e dia ma è semplicemente melodia beh perché quando la parola melodia è stata traslitterata dal greco lo iota non lo si pronunciava già più quindi vedete anche qui abbiamo uno iota sottoscritto ma quello iota non si pronunciava più e quindi non è passato poi in in latino fondamentalmente benissimo e passiamo adesso a vedere invece i dittonghi cosiddetti spuri o falsi dittonghi allora i falsi dittonghi o dittonghi spuri sono la forma epsilon iota e la forma omicron y che voi direte li abbiamo già visti nei dittonghi propri in realtà questi non sono veri e propri dittonghi ma sono delle forme grafiche che il greco utilizza per indicare un suono o meglio dei suoni a cui non corrisponde nessuna lettera dell'alfabeto e vi faccio subito un esempio allora abbiamo visto che in greco il suono e può essere di due tipi abbiamo detto che può essere aperto e in questo caso viene rappresentato dalla lettera eta oppure può essere un suono chiuso il suono chiuso però in greco può essere a sua volta di due tipi può essere un suono breve oppure un suono lungo e chiuso breve si rappresenta con epsilon come abbiamo visto invece il suono e chiuso lungo non corrisponde a nessuna lettera dell'alfabeto e in greco lo si rappresentava questo suono con una forma grafica che è appunto questa epsilon iota tant'è che se vi ricordate quando parlammo della scrittura onciale nel periodo classico vi dissi che la lettera e diciamo così veniva utilizzata per indicare sia la epsilon sia la eta che la forma epsilon y che veniva letta e quindi non veniva letta come un dittongo e i veniva letta e cioè gli si dava il suono della e chiusa di quantità lunga quindi diciamo un suono e un po' prolungato in realtà noi nella lettura comune del greco che viene utilizzato nelle scuole questo non lo distinguiamo da un dittongo in realtà come penso abbiate capito non era un dittongo veniva letto e con un suono appunto lungo e chiuso ma non era affatto un dittongo poi con il tempo si è confuso con i dittongo e quindi segue le stesse regole dell'accentazione e dello spirito eccetera come se fosse esattamente un dittongo stessa cosa dicasi per questa forma grafica omicron y che è praticamente lo stesso discorso che noi possiamo fare che abbiamo fatto per la e per il suono o anche il suono o può essere di due tipi può essere un suono aperto che si indica con omega oppure può essere un suono chiuso che se è breve viene indicato con omicron se è lungo quindi un o chiuso lungo viene indicato con omicron y ma su questi dittonghi spuri o forme grafiche particolari ci torneremo quando parleremo appunto della contrazione una cosa che non vi ho detto dal punto di vista della quantità i dittonghi sono sempre considerati lunghi infatti come vedremo quando vedremo la suddivisione delle sillabe una sillaba può essere lunga quando contiene un dittongo ci sono però delle eccezioni che poi vedremo in alcuni casi infatti questi dittonghi vengono considerati brevi ma di norma corrispondono a una vocale lunga diciamo così quindi costituiscono sempre una sillaba lunga a parte alcune eccezioni che poi vedremo di volta in volta prima di concludere vorrei farvi un esempio abbastanza significativo a proposito della differenza tra dittonghi propri e impropri allora prendiamo questo nome che è il nome del favolista esopo allora adesso ve lo scrivo senza accento e senza spirito allora questo diciamo nome proprio si legge isopos spirito e accento si pongono qui e prendiamo quest'altro nome proprio che è il nome del dio degli inferi ade allora qual è la differenza tra questi due nomi propri allora vedete che nel primo caso spirito e accento si trovano su iota quindi qui vedete abbiamo un dittongo spirito e accento sappiamo la regola vuole che spirito e accento si pongono sul secondo elemento del dittongo ma si fanno sentire come se fossero sul primo e infatti io leggo isopos e quindi questo sarà un dittongo proprio guardiamo invece questo caso anche qui abbiamo un alfa iota ma perché qui spirito e accento li ho scritti sul primo elemento ricordate che quando la lettera è maiuscola spirito e accento non si scrivono sopra ma si scrivono in alto di fianco a sinistra vi dicevo come mai qui spirito e accento non li ho scritti su iota ma li ho scritti su alfa beh evidentemente perché in questo caso alfa e iota o non formano dittongo oppure formano un dittongo improprio cioè questo iota è uno iota a scritto quindi c'è ma è come se non ci fosse e quindi lo spirito e l'accento li scrivo sul primo elemento ed è proprio questo il caso infatti questa parola si legge hades non si legge haides si legge hades e questo lo capisco perché spirito e accento stanno sul primo elemento del dittongo e non stranamente su iota ma questo semplicemente perché iota c'è ma è come se non ci fosse prima di concludere questa nostra chiacchierata vediamo a proposito sempre dei dittonghi il segno diacritico della dieresi di cui l'altra volta non avevamo parlato proprio rimandandolo a questo diciamo a questo argomento allora la dieresi come avevamo un po' detto la volta precedente è un simbolo un segno diacritico che viene indicato con due puntini due puntini che vengono scusate questi più che due puntini sembrano un puntino e una lineetta in realtà sono due puntini che vengono scritti sulla vocale debole di un dittongo quando una vocale forte scusate e una vocale debole non formano dittongo allora non sempre una vocale debole seguita da una vocale forte formano dittongo a volte non formano dittongo cioè si ha un oiato semplicemente e in greco per indicare questo viene utilizzato il segno diacritico della dieresi facciamo qualche esempio capirete che la dieresi molto spesso ma non sempre è abbastanza inutile e adesso vi faccio vedere perché quindi in molte edizioni in molte grammatiche o comunque in molte edizioni critiche non la si segna generalmente perché è inutile però in alcuni casi che dopo vi farò vedere è abbastanza utile allora prendiamo per esempio il verbo aisso il verbo aisso che significa miscaglio allora io ho letto vedete aisso allora aisso inizia per un dittongo però io ho letto aisso non ho letto aisso quindi significa che l'accento cade qua qui abbiamo lo spirito quindi vedete che io scrivo spirito su una vocale su alfa e accento su un'altra quindi significa che queste due vocali formano uno iato e non formano dittongo e quindi qui ci metto una bella dieresi quando sulla stessa vocale in cui c'è la dieresi cade anche l'accento acuto lo si scrive tra i due puntini se invece cade l'accento circonflesso lo si scrive sopra ma vabbè questa è una sottigliezza vedete che in questo caso la dieresi è inutile perché già dal fatto che lo spirito sta su alfa e l'accento sta su iota capisco che alfa e iota in questo caso non formano un dittongo quindi già da quello io lo posso capire prendiamo un altro caso per esempio prendiamo a-ypnos 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 allora ypnos ci dà l'idea del sonno a è un alfa privativo quindi questo significa senza sonno vedete alfa y in questo caso sembrerebbero formare dittongo in realtà no quindi ci mettiamo una dieresi ma questo già lo possiamo capire dal fatto che spirito e accento sono su alfa se fosse un dittongo li avrei dovuti scrivere appunto su y un altro caso in cui la dieresi è un segno grafico abbastanza diciamo così inutile è per esempio in eifeoi giovani si scrive così eifeoi vedete anche qui abbiamo due dittonghi questo dittongo finale omicron iota che è un dittongo poi un po' particolare ai fini della quantità come vedremo quando studieremo la seconda declinazione ma adesso lasciamo perdere questo incontro epsilon omicron vedete formuo iato perché è l'incontro di due vocali forti quindi non c'entra niente ecco il primo caso invece eta iota scritto così è molto strano e qui ci sono due indizi che ci dicono che questo non è un dittongo il primo è il fatto che lo spirito sta su eta e l'accento sta su iota e quindi già questo ci dice che non è un dittongo e poi ce lo dice anche il fatto che iota non è sottoscritto se fosse un dittongo sarebbe sottoscritto quindi anche qui noi possiamo metterci un segno di dieresi ma è del tutto inutile questo segno della dieresi il segno della dieresi però non è sempre inutile perché ci sono alcuni casi in cui è abbastanza utile prendiamo per esempio il nome Aydoneus che è un nome proprio allora Aydoneus si scrive così allora qui abbiamo vedete due dittonghi quello finale su cui cade l'accento infatti ho letto Aydoneus quindi l'accento cade su epsilon ma lo scrivo su y perché epsilon y formano un dittongo il primo dittongo invece io lo scrivo così allora vedete lo spirito lo metto sulla prima su alfa sulla prima vocale quindi già questo mi dice che questo non è un dittongo ma però attenzione come vi facevo prima l'esempio di Hades potrebbe essere un dittongo improprio quindi potrebbe essere un alfa lungo con lo iota a scritto e quindi come abbiamo visto prima lo spirito e l'eventuale accento io lo devo scrivere sull'alfa in realtà quello non è un o iota a scritto è un o iota che forma una sillaba diversa e in questo caso vedete la dieresi è abbastanza importante perché mi fa capire che questo non è un o iota a scritto e che quindi io lo devo leggere perché fa parte di una sillaba diversa e quindi io leggerò Aydoneus e non leggerò Adoneus quindi iota non è uno iota a scritto un altro caso ai fini della pronuncia poi soprattutto in cui la dieresi è abbastanza importante è Naidion Naidion significa tempietto allora Naidion vedete si scrive così a questo punto vedete che noi abbiamo ecco guardate questo caso noi abbiamo qui un dittongo o meglio un apparente dittongo in realtà vedremo che non lo è qui abbiamo uno iato vedete perché abbiamo una vocale debole che precede la vocale forte se però questo fosse un dittongo se il primo fosse un dittongo io dovrei leggere Naidion perché l'accento appunto cade su alfa anche se si scrive su iota in realtà io ho letto Naidion perché perché qui c'è una dieresi dieresi che mi dice che iota non forma un dittongo con alfa e quindi l'accento che cade su iota si sente su iota proprio perché non è un dittongo quindi la dieresi generalmente è abbastanza superflua però in alcuni casi è molto utile soprattutto ecco come vi dicevo ai fini della pronuncia bene io spero di essere stato abbastanza chiaro era un argomento un po' arzigogolato ma è molto importante quindi mi auguro di essere stato sufficientemente chiaro e noi ci vediamo la prossima volta cominceremo a parlare delle consonanti e della suddivisione delle parole in sillabe grazie di nuovo a tutti e alla prossima ciao a tutti